Il clima è cambiato e le leggere dello scorso anno può servire a capire quanto e come. Dalla grande siccità durata quasi per 12 mesi al gelicidio, dal caldo torido agostano alle abbondanti nevicate. Il meteo cambia, le temperature medie aumentano e dovremmo abituarci a questo nuovo tipo di clima continentale. È un dato di fatto, è l'attualità. L'anno scorso si caratterizza, noi l'abbiamo cercato di fotografare, di evidenziare bene in un rapporto del servizio idrometroclima sull'annata idrometeoclimatica dell'anno scorso del 2017. Si caratterizza, è la fotografia, è lo spaccato dei cambiamenti climatici in atto per la grande verabilità dei fenomeni. Nel 2017 si è caratterizzato per avere una siccità prolungata nel tempo, è partita a ottobre del 2016 e senza soluzione di continuità arrivata fino al settembre del 2017. Quindi in termini di durata sicuramente è stato un evento importante, quasi di carattere straordinario. Allo stesso tempo abbiamo avuto fenomeni come il gelicidio in gennaio, abbiamo avuto delle gelate tardive in aprile del 2017, abbiamo avuto degli eventi alluvionali nella fase finale del 2017 con i problemi di rotta e di superamento arginale a lentigione di Brescello, legato a un evento di apporto di pioggia importante, circa 300-500 mm di acqua piovuta in collina e sul crinale in circa 36 ore. La lettura delle nuove condizioni meteo deve spingere istituzioni e dell'imministratore di intervenire. È una sfida che deve essere affrontata ed è affrontata dal livello globale al livello locale. Parigi, gli accordi di Parigi, Copp 21, hanno posto una serie a base per portare avanti queste strategie mettendo insieme la mitigazione, cioè evitare e ridurre le emissioni di CO2, ma anche politiche di adattamento che significa aumentare quello che noi in termini di città e che ci diciamo la resilienza nei nostri sistemi. Il cittadino di solito poco vezzo ai cambiamenti, come può contribuire a ridurre l'impatto della mutazione del clima? Un cittadino informato sicuramente contribuisce a fronteggiare queste sfide dell'adattamento climatico.